Il Teramo si rituffa nella seconda parte di campionato con un occhio però sempre puntato verso il mercato perché la società ha altri 11 giorni ancora per rinforzare una Rosa che ha perso due pedine davanti e aspetta di essere integrata con qualche innesto che possa dare maggiore contributo in zona gol. Per il momento sembra aver subito una brusca frenata la trattativa che doveva portare Christian Carletti dal Bianco-Rosso Carpi al Bianco-Rosso Teramo. La valutazione economica dell'affare sembra aver consigliato il presidente Campitelli e il direttore sportivo Giorgio Repetto, ieri al Bonolis per la rifinitura, a mollare la presa. Difficile stabilire se lo stop sarà solo strategico oppure definitivo. Intanto però il diavolo si è gettato a capofitto su Idrissa Camarà, 25enne della Guinea-Bissau assistito da Beppe Accardi. L'esterno attacco dell'Avellino dovrebbe arrivare in prestito dagli Erpini esattamente come Sumaré sperando però di avere maggiore spazio e fortuna di quanta non ne abbia avuto il suo predecessore. È ovvio che il ragazzo ha delle qualità e l'Avellino lo manderebbe a trovare uno spazio che in Serie B non avrebbe ed è anche per questo che non manca la concorrenza tipo quella del Trapani che lo vorrebbe in Sicilia al più presto. La dirigenza teramana sembra essere ben predisposta verso l'arrivo di Camarà che prenderebbe numericamente il posto proprio di Sumaré. Davanti invece non dovrebbe arrivare dal Lugano il giovane Carlo Manicone che è appetito dalla Serie B, Entella in primis. Il Teramo ci aveva provato a prendere il gioiellino cresciuto nella primavera dell'Empoli ma la concorrenza della cadetteria ha fatto in modo da consigliare i biancorossi a molare la presa. Masta qualcosa se l'aspetta da qui alla fine del calcio mercato. Non sarà Manicone ma il profilo potrebbe essere quello. Ragazzo giovane, di prospettiva e con già qualche esperienza nel calcio che conta. 11 giorni ancora per provare a trovare il giocatore giusto. Nel frattempo il torneo che ricomincia, le questioni salvezze saranno al centro dell'attenzione. Mercato permettendo.